Sfida teoricamente in salita, quella che si appresta a disputare il Casal Bordino nella prima assoluta davanti al proprio pubblico per il neomister Tommaso Di Biccari, già alla guida della truppa giallorosa nella precedente sfortunata trasferta in quel di Alba Adriatica. L'obiettivo dichiarato è quello di invertire il pericoloso trend negativo per allontanarsi tempestivamente dalle burrascose acque della zona a rischio della classifica. I giallorossi del patron Santoro ricevono l'ambizioso Avezzano, che al contrario cerca e lascia passare dopo aver sgretolato le veleità del Giulianova nel turno precedente di campionato. Novità inorganico per la squadra casalese che è presente in campo, gli ultimi arrivati La Penna e Fanelli, con l'altro arrivato Mori che si accomoda inizialmente in panca. Non c'è neanche il tempo per le prime canoniche fasi di studio ed ecco che i piani tattici di mister Di Biccari vanno bellamente a gambe all'aria. Sono trascorsi appena 40 secondi dal fischio d'avvio del signor Giallorenzo di Sulmona e il bomber Pendenza non perdona gonfiando la porta del malcapitato Tano e portando in vantaggio i lupi marsicani con una combinazione veloce tra le linee e con la difesa giallorossa presa di infilata. I padroni di casa hanno il merito di riorganizzare le idee senza farsi prendere dallo scoramento e già un paio di minuti dopo vanno ad insidiare la porta di venditti con il siluro dal limite di Zinni che sfila di poco a lato. Catalli sull'altro versante ha una buona opportunità per rimpinguare il bottino ma Tano si accartoccia e blocca il rasoterra del 10 bianco-verde. La truppa di mister Di Biccari si scuote di dosso, il timore reverenziale comincia a giocare a viso aperto producendosi numerose e interessanti opportunità dalle parti di venditti che rischia sull'irruzione in area di Della Penna in leggerissimo ritardo all'appuntamento con l'incornata. L'estremo marsicano è decisivo poco dopo su Zinni scegliendo i tempi giusti per l'uscita che limita i danni e ringrazia poco dopo la penna che non stacca con incisività su una interessante pennellata dalla destra. Dopo le infruttuose sfuriate della squadra casalese i ragazzi del presidente Paris tornano a dirigere le operazioni anche se le bocche da fuoco marsicane non sono esattamente all'altezza delle aspettative. Dopo l'ingresso in campo di Braghini al posto dell'acciaccato Catalli, Pendenza prova un diagonale in area che si spegne oltre il secondo palo. Il suo collega d'attacco Dos Santos, piuttosto evanescente per il resto dei 90 minuti, ci prova in due occasioni ravvicinate ma con scarsi risultati per buona pace di Tano e compagni. La prima frazione va in archivio con la giocata del giovanissimo Di Pasquale, classe 2004, che tenta la soluzione dalla distanza e per pochissimo non riesce a sorprendere l'estremo Avezzanese. Alla ripresa dei giochi l'affondo iniziale di Braghini è abbastanza illusorio, visto che da questo momento sarà la truppa di casa a prendere il comando delle operazioni, data anche l'impellente necessità di raddrizzare le sorti della sfida. Al terzo Zinni è il propiziatore del pareggio giallorosso, visto che dalla sua staffilata dalla distanza scaturisce la mancata presa di Venditti con la sfera che rimane in gioco e con Zanon costretto a stendere in area il giallorosso De Santis. Per il fischietto vigliano non ci sono esitazioni nell'indicare il dischetto ed estrarre il giallo all'indirizzo dello stesso Zanon. Dagli 11 metri Zinni non fallisce e fa esplodere l'esultanza del tifo di fede giallorossa. Raggiunto il meritato pareggio i padroni di casa non sono appagati e cercano il colpaccio con un paio di interessanti opportunità dalle parti di Venditti, dapprima con il promettente Trisi che dalla distanza spedisce insidiosamente a fil di palo e dopo un periodo di stasi generale tenta di nuovo con il sempre insidioso Zinni che stavolta impegna Venditti in due tempi con un perfido piazzato a rientrare da posizione periferica. Sarà in definitiva l'ultimo acuto della truppa giallorossa che nelle battute conclusive riesce a gestire al meglio la situazione e nonostante i tentativi finali di Crass e Besana, quest'ultimo fermato da un superlattivo Tano e dalla bandierina dell'assistente porta a casa un punto importante per il morale, contestazione a fine gara all'indirizzo del vicepresidente biancoverde Puglielli che alle nostre telecamere ufficializza le proprie dimissioni. Sicuramente, lo sto dicendo qui davanti a voi, farò il comunicato stampa questa sera mi dimetto dalla vicepresidenza della società per ovvi motivi personali ho problemi personali e quindi letteralmente non posso portare avanti la mia carica mi dispiace molto di questa cosa ringrazio il presidente Paris e il direttore sportivo Gigi Ridolfi e tutto lo staff della Venziano Calcio per questi due anni che siamo stati insieme benissimo però purtroppo per ovvi motivi personali non posso continuare la mia carica mi dispiace molto sarò sempre vicino al presidente Paris però mi dispiace così lo faccio in diretta verrà scritto un comunicato stampa tra poco Padron Santoro, finalmente una soddisfazione a fine gara non si è vinta la gara ma è come se fosse un successo considerando che questa gara con l'Avezzano si era messa malissimo dopo pochi secondi Eh sì, la gara si era messa male noi stavamo in una situazione emergenziale clamorosa con due infortunati, uno squalificato giocatori che sono arrivati all'ultimo secondo ed altri che devono arrivare e poi soprattutto il livello di gioco dell'Avezzano perché l'Avezzano era imbattuta il miglior attacco c'era il capocannoniere del torneo quindi insomma è andata bene così ma soprattutto per la prestazione abbiamo fatto una grandissima prestazione è stata veramente una bella domenica di sport